ciao a tutti e benvenuti nel canale youtube della maschera riposta io mi chiamo mosè e in questo video signori voglio aprire con voi guardate il contenuto di questa scatola che mi è appena arrivata anzi a essere precisi mi è arrivata ieri oggi è il 10 novembre del 2022 e il giorno 9 novembre 2022 mi è stata recapitata la scatola di enciclopedia un gioco da tavolo di eric dubu e olivier melison prodotto da holy grail games stiamo seguendo parecchio questi questi autori e questa casa e questa casa editrice abbiamo già acquistato credo tutte le loro opere precedenti che sono fondamentalmente museum o museum e museum pittura o museum pittura a seconda del tipo di pronuncia che decidiamo che decidiamo di opzionare diciamo sono tutti giochi con dei temi che ci affascinano moltissimo no museum che dobbiamo peraltro ancora portare sul canale il primo museum dobbiamo ancora portarlo perché solo recentemente c'è stato recapitato il materiale che lo porta alla seconda edizione diciamo è stato molto rivisto dal punto di vista delle regole rispetto alla primissima edizione dicevo il primo museum ci mette nei panni di curatori di musei che diciamo specializzati soprattutto nel nella nella nel rinvenimento di oggetti diciamo appartenenti a civiltà antiche oggetti particolari po tipo wunderkammer diciamo museum pittura è una sorta di spin off che ripropone regole molto simili però è tutto concentrato solo sulla sulla pittura appunto su grandi opere di pittura e quello l'abbiamo portato nel canale e oggi signori ci è arrivato encyclopedia e anche questo è un gioco di collezione diciamo solo che in questo caso dobbiamo collezionare più elementi appartenenti al mondo naturalistico sembra comunque lo scopriremo naturalmente conoscendo meglio il gioco prima di aprire la scatola vi voglio dare qualche informazione sulla campagna kickstarter tra l'altro oltre alla scatola del gioco c'è anche questa scatola vedete molto anonima ma piena di roba quindi scopriremo cosa c'è anche dentro questa questa scatola di cartone spero che la roba qui possa andare dentro qui ma ho qualche dubbio è perché questa scatola pesa tantissimo sembra veramente molto molto piena quindi mi sa che questo è materiale deluxe che bisognerà tenere dentro questa triste scatola di cartone così non lo so vedremo lo scopriremo fra poco comunque prima vi voglio dire che questo progetto è terminato ufficialmente il 14 aprile 2022 quindi non molto tempo fa ho il sospetto che i produttori avessero la semi certezza di essere di avere una campagna di successo e quindi che abbiano iniziato la produzione forse addirittura prima della dell'apertura della della campagna sapete che ci sono produttori che diciamoci la verità usano kickstarter più come una piattaforma di preordini che come una che come un vero e proprio calcio d'inizio al loro progetto spesso il loro progetto anzi è già in fase avanzatissima di realizzazione quando lo presentano quando lo presentano su su kickstarter allora vediamo un po che pledge ho fatto signori a suo tempo feci anche un video per spiegare perché avevo deciso di sostenere questo gioco quindi potete anche volendo recuperarlo per vedere proprio le mie le mie idee iniziali quando decisi appunto di sostenere questo progetto comunque ho pagato 79 euro ed è l'all in pledge quindi a copy of encyclopedia and the sepultus creatura promo cards as well as the magna itinera expansion the deluxe tokens and coin sets and the card sleeve sets ok quindi forse qui dentro ci sono i deluxe token e le card sleeves non lo so vediamo perché le espansioni mi sa che sono dentro sepultus creatura è sicuramente qua dentro però forse l'altra espansione no quindi l'altra espansione mi sa che è dentro qua quindi signori 79 euro però attenzione estimated delivery settembre 2022 quindi in realtà sono un po in ritardo pur essendo partiti così tardi vabbè però un ritardo assolutamente trascurabile insomma c'è arrivato in novembre invece che a settembre e vediamo se guardando la campagna ci dicono anche quanto abbiamo pagato le spese di spedizione perché è molto pesante ragazzi questo allora vediamo un po eccolo qua shipping allora noi siamo in italia siamo nel gruppo 1 12 14 euro quindi recupero ribadendo noi abbiamo speso di mettiamo che abbiamo fatto che abbiamo pagato 14 euro di spedizione quindi abbiamo un centone abbiamo pagato un po meno di un centone 79 più 14 89 93 vabbè insomma un po meno di 100 euro per questo gioco ragazzi quindi l'abbiamo pagato abbastanza direi non l'abbiamo pagato abbastanza caro però se è bello ricco di materiali come sembra se i materiali sono fatti bene se il gioco è piacevole può anche starci insomma quindi bando alle alle introduzioni signori abbassiamo lo sguardo sul tavolo e scopriamo insieme finalmente cosa c'è dentro queste scatole eccoci signori eccoci al tavolo con la scatola di encyclopedia di eric dubu e olivier melison illustrato da joel dron jeremy prognon e ronan toulon vabbè è tutto un prodotto francese insomma sono francesi questi qui di di holy grail è la versione in inglese quella che abbiamo come indicato da questo simbolo vediamo i classici le classiche indicazioni sulla durata sull'età vedete dai 12 anni in su da 1 a 4 giocatori 25 minuti per giocatore vediamo un po anche il retro della scatola allora l'anno è il 1739 il conte de buffon il predecessore di darwin sta scrivendo un'enciclopedia che diventerà una delle più importanti uno dei più importanti contributi nel tempo dell'illuminismo la natural history la storia naturale sei tra i migliori naturalisti avventurieri del tuo tempo e questo conte ti ha invitato ad aiutarlo a completare questa enciclopedia il contesto storico è molto no sono molto curati questi giochi dal punto di vista del contesto e del tema e sapete che per noi questo è un elemento decisivo diciamo nel scegliere le nostre le nostre le nostre opere diciamo dell'ingegno con cui dilettarci attraverso un ricco meccanismo di piazzamento lavoratori ricco in interazione usa i tuoi dadi o quelli dei tuoi opponent dei tuoi avversari per studiare animali per condurre spedizioni verso altri continenti o anche per reclutare esperti che ti aiutino nella tua ricerca questo ti aiuterà a raggiungere il tuo obiettivo principale che è pubblicare ciò che hai scoperto aumentando così la tua fama con la sua ricca strategia con la sua il con i suoi componenti riccamente illustrati encyclopedia è un accessible expert game beh carino questo cioè no è un buon è un buon modo per dare un colpo al cerchio non alla botte questo qua no cioè è un gioco accessibile ma anche per esperti contemporaneamente no che vabbè non lo so insomma potrebbe anche suonare come poi eccessivamente contraddittorio però va bene un gioco per esperti accessibile che ti sorprenderà e per ribadire il concetto con la sua semplicità e con la sua profondità solo che sono claim che fanno un po tutti no al giorno d'oggi diciamoci la verità cioè tutti gli autori di giochi dicono no ma il mio gioco è semplicissimo da imparare ma difficilissimo da padrone è diventato un luogo comune no lo dicono praticamente tutti dagli autori dei party game agli autori dei giochi più complessi dicono sempre tutti più o meno questa roba va bene signori bando alla alle ciance apriamo la scatola vediamo se riesco con la sola imposizione delle mani sapete che non ce la farò mai in realtà no non ce la faccio però guardate oggi ho dell'attrezzatura di un certo livello a portata di mano quindi con questo prestigiosissimo taglierino sperando di non fare troppi danni alla scatola ecco qua togliamo un pezzettino di plastica qui nell'angolo e scopriamo insieme cosa c'è dentro questa scatola eccoci beh il taglierino magari mettiamolo anche fuori campo perché non è il protagonista del video diciamo esisteranno canali solo dedicati ai taglierini con tutto quello che c'è su youtube figuriamoci se no se qualcuno non ci ha pensato va bene togliamo la plastica signori dal dal dalla scatola e scopriamo insieme di che cosa si tratta vediamo un po allora intanto il cartone è sufficientemente rigido scatola sembra di buona qualità purtroppo non è decorato all'interno peccato e questa è spesso una mist opportunity cari produttori di giochi dovete anche decorarle all'interno le scatole sapete che a noi piacciono le cose finemente cesellate va bene la prima roba che ci si para davanti è il regolamento il rule book quindi a questo punto signori buttiamo fuori campo tutto il resto e diamo un'occhiata al regolamento naturalmente faremo daremo un'occhiata veloce le illustrazioni sono molto belle vedete c'è una presentazione che un po ripete quello che abbiamo visto che abbiamo letto che abbiamo letto fuori vedete qui c'è tutta la spiegazione riguardo ai componenti il setup eccolo qua you can now start the game poi abbiamo appunto the game quindi la spiegazione del gioco quindi start of the round drawing dice the turn performing an action beh 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 sembra interessante no using experts academy the different categories by type molto bene expedition perfetto publication molto bene end of the round end of the game ok perfetto e qui c'è una appendice tipo no una sorta di 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 a una è una spiegazione delle expert cards che probabilmente hanno dei simboli incomprensibili come quasi sempre fanno ai noi gli autori dei giochi e questi simboli incomprensibili vengono poi spiegati nel manuale sepultus creatura è un'espansioncina come 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 penso riguardi i fossili no aggiunga al gioco tipo i fossili penso sia questo penso sia questa la differenza poi c'è la spiegazione vedete del solo mod quindi c'è anche una modalità solitaria end of the game varianti e consigli quindi anche questo potrebbe essere interessante guardate c'è anche una faq con le domande frequenti e guardate carino anche questo the history behind encyclopedia la storia dietro encyclopedia breve però vabbè apprezziamo insomma nonostante sia così meglio breve che niente insomma quindi va bene e vedete sul retro del manuale c'è un gaming aid molto bene signori mi sembra un bel manuale no ben fatto piacevole da sfogliare vediamo cos'altro c'è all'interno della scatola ovviamente allora cominciamo da delle fustelle ok delle belle fustelline eccole qua che hanno vedete delle monetine delle plancette fustella 1 vedete fustella 2 ok poi abbiamo fustella 3 eccola qui e fustella qua sono tantissime ragazzi fustella 4 hanno l'area di essere le plance dei giocatori poi abbiamo una fustella con tutti questi simbolini forse questi qui avranno poi un upgrade anche questi secondo me troveremo una versione deluxe di questi qui dentro la scatola di cartone che non ho ancora aperto è ma ipotizzo vista la pesantezza e il suono questi sembrano tipo dei piccoli scrigni da fare magari per tenere le nostre risorse potrebbe essere carino e poi guardate abbiamo la plancia generale del gioco allora vediamo se riusciamo a darci un'occhiata più da vicino spostiamo le fuste non so più dove mettere le robe fuori campo bene e vediamo se riusciamo a dar beh dietro non ha niente peccato però sembra molto bella sembra molto bella non riesco a inquadrarvela tutta cari amici è molto grande e ci piace che sia molto grande va bene non fate plance troppo piccole per favore cari autori di giochi neanche esageratamente grandi però neanche esageratamente insomma un giusto no dipende cosa dovete metterci a volte ha senso che siano esageratamente grandi se dovete metterci un sacco di roba per esempio questa non sembra sprecare molto spazio no sembra è bella grande ma sembra tutta bella piena in realtà il dritto non è questo è quindi sembra che sia necessario piazzarla sul tavolo così si va bene state vedendo se va bene metà cioè proprio non so potrei prendere provo a prendere in mano scusate la fotocamera per cercare di farvela vedere tutta vedete devo andare proprio sulla luna praticamente per farvela vedere per farvela vedere tutta va beh insomma è è molto grande ma è molto carina e piacevole da vedere va bene signori vediamo cos'altro c'è a questo punto nella scatola quindi ripieghiamo la plancia generale torniamo alla scatola del gioco e guardate abbiamo un bel mazzo di carte ok e guardate siccome queste carte penso siano riccamente illustrate ve le voglio fare vi voglio far vedere un po questo mazzo perché spesso non apro neanche i mazzi i mazzi di carte durante questi unboxing però penso che queste meritino quindi diamoci un'occhiata penso e spero che siano tutte diverse guardate ardea cinerea col suo bel continente grus paradisea guardate che 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 bellini no che sono che belle che sono le illustrazioni fataginus tricuspis peccato non ci sia neanche un pro di flavor text veramente peccato questo è il dorso delle carte veramente peccato il disegno dietro è sempre diverso no è sempre è sempre diverso anche il disegno dietro vedete guardate hanno il nome scientifico c'è almeno il nome comune me lo dovevate mettere però eh amici vabbè è un po una misto cioè sono bellissime ma sono anche un po una mist opportunity perché volevo che ci fosse sopra il nome comune e anche un minimissimo di flavor text anche un flavor text il top sarebbe stato un flavor text storicizzato no cioè cosa si sapeva di questi animali forse quasi niente nel momento in cui sono stati in cui è ambientato questo gioco ma insomma magari qualcosa qualcosa già si sapeva e vedete sono divisi per continenti ok quindi abbiamo qui vedete l'Australia poi abbiamo questo qui vedete le Americhe no beh sono molto molto carine poi abbiamo così l'Europa l'Eu si l'Europa eccola qua il porco spino questa tartaruga qui questo questo orso questo serpente e poi abbiamo l'Asia vedete questi sono gli animali dell'Asia e poi abbiamo anche che cosa ah ecco sepultus creatura i fossili quelli aggiunti dall'espansione queste hanno l'area di essere delle carte delle carte aiuto tipo no che forse danno spiegazioni o forse no perché guardate sono in realtà tutte diverse quindi no forse hanno qualche no no non sono carte aiuto sono hanno una qualche altra funzione perché sono tutte diverse vabbè non lo so non so bene a cosa serviranno lo scopriremo in futuro quindi questo signori è il mazzo di carte ci sono però anche delle carte più piccole vedete questo non ve lo apro ma c'è anche un mazzo di carte più piccole ci sono dei dadi che sembrano dei comunissimi dadi a sei facce ok proprio comunissimi diciamo non hanno nulla di particolare peccato eh si potevano fare dei dadi visto che questi produttori sono sempre così attenti no a livello a livello produttivo potevano fare dei bei dadi personalizzati no e poi ci sono tanti bei cubettini guardate che faranno la gioia no dei germanisti ok guardate quanti bei cubettini quanti bei cubettini colorati e l'ultima cosa che abbiamo è questo sacchetto finemente istoriato guardate dove presumibilmente andranno messi dei token o degli elementi di gioco questo signori è tutto quello che c'è all'interno della scatola del gioco però attenzione perché dobbiamo anche vedere cosa c'è nella scatola nella scatolina bianca anonima che c'è stata recapitata no insieme al gioco questa scatola ok e sentite qui ci sono sicuramente delle monete di metallo e probabilmente qualche altro token qui c'è parecchio spazio vuoto nella scatola forse io voglio sperare che tutta sta roba ci stia in realtà dentro dentro la scatola perché pur essendo pesante poi una volta che viene defustellata che vengono defustellate tutte quelle fustelle c'è ancora più spazio quindi io voglio sperare che ci sia vediamo un po guardate che ben di dio che c'è qua dentro vedete si sono tutti i segnalini vedete upgraded questi saranno magari segnalini per per il tracciato punteggio vedete sono di legno stampato su entrambi i lati anche questo vedete questi sembrano anche questi segnalini relativi al punteggio anche questi stampati su entrambi i lati guardate poi abbiamo le monete di metallo cari amici e abbiamo monete che valgono 1 e monete che valgono 5 vediamole un po più da vicino queste qua allora vediamo un po più da vicino queste monetine eccole qua guardate che carine che sono anche se io vedete sono diverse molto molto bello che siano diverse sul sul recto e sul verso e c'è scritto queen of queen of po 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 to pia to to io 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 il sesto vabbè non lo so probabilmente hanno un qualche riferimento storico che io non so non so riconoscere comunque sono veramente carine e simpatiche e ci sono anche quelle vedete di valore 5 ve ne faccio vedere un po anche di queste ok eccole qua e hanno scritto sopra queste quintus secondo 1752 rua de de mi mi peland ma non vorrei che fosse un inside joke tipo mi poland non so forse forse ci sono degli inside joke dentro queste dentro queste monetine però però vabbè sono carine sono sono belle sono piacevoli da maneggiare sicuramente poi guardate questo sarà il token primo giocatore forse anche questo vedete un bel token di legno stampato su entrambi i lati guardate sì vedete questi sono tutti i tokenini ecco a questo punto sapete qual è il vero problema che tutti quei token che noi defustelleremo non ci serviranno a niente cioè dove li mettiamo cosa ci facciamo con quei token li nascondiamo sotto il letto tipo li buttiamo via buttarli via mi piange il cuore no quindi è un problema ragazzi i produttori dovrebbero trovare il modo di mettere o una roba o l'altra no cioè o mi metti le fustelle con i token di cartone oppure mi metti quelli upgraded se me li dai tutti e due così mi metti in una situazione un po di difficoltà no guardate anche questi anche questi sono sicuramente no sono quelli che abbiamo visto sotto forma di fustelle che qui sono sotto forma di legno vedete sono sono tutti uguali anche se hanno questi simboli sul retro mi sembra che siano che siano tutti uguali anche questi sono carini no sono dei tokenini tokenini di legno sottile però bello anche questo piace almeno presumo siano di legno e poi guardate abbiamo le buste ok per imbustare le carte molto bene quelle grandi e quelle piccole vedete ecco qua perfetto e poi abbiamo l'espansioncina guardate eccola qua magna itinera che sembra semplicemente un mazzo di carte a tutta l'area di essere un puro e semplice mazzo di carte vediamolo allora sì c'è un mazzo di carte però c'è anche allora ci sono delle carte piccole ai qui vedete c'è il rule book in due lingue questo c'è anche in francese e vedete ve lo faccio vedere è semplicemente un foglio che si apre così tipo bugiardino vedete magna itinera ok quindi vabbè adesso non ci soffermiamo più di tanto su queste regole e c'è questo mazzo di carte che però le regole ce le ha anche dentro sembra guardate almeno in in francese vi faccio vedere anche questo mazzo di carte già che ci siamo così vediamo che illustrazioni ci sono al suo interno vediamo un po se riesco molto bene ad aprirlo senza fare troppi danni allora ci sono queste a no ok the royal edict forse queste sono regole aggiuntive ulteriori non lo so perché vedete forse queste sono le regole relative solo a queste tre carte forse questa regola è relativa solo a questa forse questa solo a questa non saprei e forse magari adesso io facendo così sto incasinando tutto a tutti i nostri noble contributors thank you e poi vedete tutte queste altre tutte queste altre carte che sembrano holy grey gazette la gazzetta del sacro graal ok vabbè forse è un qualche una qualche tipo di meccanica no aggiunta al gioco ma ci sono anche delle creature vedete ho capito cioè questo gioco aggiunge creature fantasy quindi sminchiona un po vedete l'ambientazione unicornis cerberus nessiteras rhombopi pterix vedete vabbè aggiunge creature draco mirabilia aggiunge creature mitone l'idea è anche carina è anche simpatica tra l'altro immagino che nel settecento immagino e penso di ricordare dai miei studi che nel settecento ci fosse anche l'idea che queste creature non erano proprio così fantastiche semplicemente erano difficili da da fotografare ma c'erano no erano convinti di questa cosa anche molti anche molti scienziati ok va bene signori quindi direi che abbiamo visto tutto no c'è questa espansioncina tutti i vari token questo signori è il contenuto della scatola anzi delle scatole collegati a ensia encyclopedia bene signori quindi questo è il contenuto della scatola di encyclopedia mi sembra che mi dà un'impressione positiva insomma mi sembra che il gioco prometta bene da quello da quel poco che abbiamo visto però naturalmente bisognerà provarlo per capire come tutto ciò si concretizzerà poi a livello di meccaniche a livello di esperienza generale quindi rimanete sintonizzati perché ovviamente in un futuro speriamo non troppo remoto porteremo questo gioco sul canale e ne spiegheremo le meccaniche e vi daremo anche il nostro consueto parere il nostro consueto parere critico e se non siete ancora iscritti al canale e volete non perdervi questi video anzi non volete perdervi questi video beh quale occasione migliore per iscrivervi al canale se non avete ancora fatto cliccate anche sulla campanella mi raccomando così vi arriveranno le notifiche tutte le volte che pubblicheremo nuovi video mosè dalla maschera riposta vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo video grazie a tutti